Ti piacerebbe risparmiare dai 40 agli 80 euro che ti costerebbe cambiare il tuo tavolo di plastica o resina da giardino invecchiato e sbiadito? Allora, guarda questo video. Tavoli e sedi da giardino costano sempre di più, ma si rovinano e diventano brutti sempre più in fretta, perché sono fabbricati con plastica reciclata e la qualità è sempre più scadente. E anche se spendi tanto per cambiarli, dopo un'estate al sole, saranno comunque scoloriti e brutti. L'alternativa è rinnovare, ma rinnovare è conveniente solo se il rinnovo ha una lunga durata d'effetto. Per questo, rinnovare è conveniente solo con RS Black Traction, perché solo il rinnovo a plastica RS Black Traction, garantito senza silicone e cere, è l'unico prodotto rinnovatore che può dimostrarti la più lunga durata d'effetto rispetto a qualsiasi altro prodotto concorrente, superando prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi terminato l'assorbimento, che nessun altro prodotto concorrente rinnovatore può dimostrarti di poter superare, e che sono indicative di quanto puoi aspettarti che duri il miglioramento estetico che ottieni con l'applicazione di un rinnovo a plastica. Solo con il rinnovatore Black Traction, una sola applicazione dura moltissimi mesi, mediamente da 8 fino a 16 mesi. E invece di continuare a mettere continuamente oli e prodotti che non servono a niente, se utilizzi RS, non ci pensi più per tutta l'estate. E 40 euro di mezzo litro di prodotto ti permettono di rinnovare, mediamente, 12 metri quadrati di superficie piana di plastica. Un bel risparmio rispetto agli 80 euro di un tavolo per 6 persone. Equivale a dire che con circa 8 euro hai rinnovato il tavolo per tutta la stagione ed hai risparmiato minimo 80 euro, che ti sarebbe costato cambiarlo. Una bella differenza tenersi minimo 80 euro risparmiati in tasca. Così ti eviti anche la seccatura di dover portare in discarica l'arredamento vecchio da giardino e di doverne andare a comprare di nuovo, ma spendendo molto di più e che dopo un'estate al sole sarà comunque sbiadito e rovinato. L'applicazione DRS è facile e veloce e va effettuata a pennello, sulla plastica, pulita e asciutta e non resa pollente dall'esposizione al sole. Dopo qualche minuto si passa con un panno per uniformare l'applicazione e togliere il poco prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito. La finitura è subito idrorepellente, ma sarà asciutta al tatto e resistente a detergenti aggressivi e solventi con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima da nessun altro prodotto rinnovatore concorrente quando sarà terminato l'assorbimento. È protettiva dall'assorbimento di agenti macchianti? Così potrai pulire tavoli e sedie con prodotti meno costosi e meno aggressivi. Puoi cercare dove vuoi, ma nessun altro rinnova plastica? Ti dimostra la lunga durata d'effetto che ha ARS superando prove di resistenza solventi. È il prodotto che ti avanza, conservato ben chiuso, anche dopo l'utilizzo? Non ha scadenza. Solo con i prodotti Black Traction rinnovare equivale a risparmiare. Facile, veloce, comodo e convenienza per risparmiare che non puoi trovare in nessun altro prodotto o sistema concorrente. Quest'anno cosa vuoi fare? Vuoi continuare a farti spennare? O ti sei fatto furbo ed inizi a rinnovare e risparmiare con ARS Black Traction? Puoi ordinare ARS sul sito Black Traction e riceverlo comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon, non adatto a plastica rovinata da prodotti corrosivi o scaldata con FON.